Giorso Mino De Vita, confermato anche quest'anno nella dirigenza dell'Olimpia agnonese, si farà un buon lavoro con Mecomonaco? Non lo so se sarò confermato, penso di sì però comunque. Noi invece lo sappiamo. È un'esperienza fatta già negli anni passati, continuerà penso di dare una mano a questa società, Agnone lo merita. Che cosa spera per l'Olimpia agnonese quest'anno? Non mi dica la salvezza però. Io spero qualcosa più della salvezza, quindi magari andare a fare i playoff come è stato, come è accaduto due anni fa. Almeno questo per soddisfare un po' i tifosi e un po' tutto Agnone. Chi le piacerebbe che venisse come giocatore qui? Io dico che qualche giocatore del passato, degli anni scorsi, dovrà rimanere anche perché l'allossatura c'è e bisogna tutta più fare il contorno. Io non faccio nome perché se no farei dei nemici e degli amici. Penso di no, di non fare nome. Comunque insomma si comincia a lavorare da adesso, dall'arrivo del mister. Per l'estate l'Olimpia agnonese non è vacanza ma è lavoro a pieno ritmo. No, 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 siamo qui già pronti. Non deve accadere quello che è accaduto l'anno scorso, quindi assolutamente una preparazione fatta nei tempi dovuti io penso che gioverà alla squadra e anche alla classifica. Grazie. Grazie.